Buongiorno a tutti, c'è sempre qualche minuto in più per preparare tutto quanto. Stasera per questo concorso di bellezza Miss Agrand International è il momento dove concludiamo il percorso del Veneto. Veneto che ha segnato l'Unione di Venezia e Giulia con un po' delle due regioni d'Italia dove è presente questo concorso. Un concorso che vive proprio nel nord-est dell'Italia perché poi ha un procedimento a livello internazionale con alcune nazioni che sono vicine a noi, la Slovakia e la Proazia e poi più da Lungheria, la Repubblica Cercat, la Slovakia e la Germania. Questi sono i sette paesi che confongono la regione, la macro regione europea per quanto riguarda questo concorso, alveare, dalle Alpi, all'Adriano. Sette paesi europee, si inizia con delle selezioni locali, poi ci sono le finali regionali, questa, quindi l'evento di questa sera e poi a gennaio ci sarà la finale nazionale e in pratica sarà Vede del Contro Triulane e verranno scelte le tre ragazze che vanno a rappresentare l'Italia per la prossima finale internazionale. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!